Siamo a Capra, sopra. La cosa più bella di questa spiaggia penso che sia la sabbia, sono dei cioccoli finissimi bianchi e ovviamente c'è il divieto di portare via i cioccoli dalla spiaggia. C'è un parcheggione dove abbiamo pagato noi 6 euro dalle 2 fino a domani mattina alle 8. Questa è una stazione attuale, la cosa un po' brutta è che ci sono un sacco di alghe. Quindi c'è un mochetto, da uno no, da passio se può draiare lì sopra, se no un po' più in là. L'acqua è ghiacciata.